Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlightstube, nuovo video a tema Disney su Instagram, link in descrizione. Avevo messo qualche settimana fa, giusto per sondare un po' il terreno, quale sarebbe stato il film che avreste voluto recensito per quanto riguarda i classici Disney. Io ho messo la scelta tra Hercules e la Sirenetta e potete immaginare tranquillamente quale ha vinto. Quindi eccomi qui a parlare dell'ennesimo classico Disney con una marea di messaggi sbagliati che cercavano di farci passare come romanticismo quando eravamo piccole e ingenue. Sto parlando della Sirenetta, la Sirenetta che ha praticamente l'innamoramento più veloce della storia, tre secondi netti, proprio cronometrati al centesimo. Non ho bisogno di dirvi che questo video contiene spoiler, quindi mi raccomando se siete qualche miscredente che ancora non ha visto, non conosce, non ha mai visto questo film. O se magari volete farlo vedere ai vostri figli così per ridere, ma evitate perché io dico un sacco di parolacce quando si parla di questi film. Ma comunque io l'avviso ve l'ho messo nel caso, sempre meglio essere precisi, prima che magari mi ritrovo gente che invece non ha mai visto la Sirenetta della Disney e aveva pensato di vederlo con i propri figli, inoltre per farsi una cultura anche lui o anche lei nel caso di una mamma. Quindi io lo dico chiaramente, state alla larga se non avete mai visto questo film. Se invece volete solo farvi quattro risate, anche se avete visto o non visto il film perché gli spoiler non vi toccano, allora buona visione a tutti. La Sirenetta è uno dei classici più famosi, tratta dalla favola di Anderson, perché questo me lo ricordo, che era anche un bel pugno allo stomaco. Oltretutto io ci tengo anche a parlare di una Sirenetta che era uscita in versione giapponese, che era molto fedele alla favola di Anderson e che tuttora, quando mi capita di vederlo, perché si trova su YouTube, mi è capitato di vederlo credo un anno o due anni fa, mi spezzò il cuore come me l'aveva spezzato la bambina. Perché i miei, sapete quelle videocassette che vendevano in edicola? I tuoi genitori ingenui te lo compravano intanto che usciva il classico in videocassetta della Disney, tutto il resto te lo compravano pensando di farti un favore e invece ti traumatizzavano la vita. Perché quello lì veramente è stato un pugno allo stomaco, perché era molto fedele alla favola originale. La favola originale di Anderson, posso anche accennarvela così, la Sirenetta va dalla strega del mare per farsi dare le gambe e la strega del mare le dà un giorno di tempo, cioè veramente manco il grande fratello, manco Tentation Island, per far innamorare il principe. Se non ci riuscirà e se il principe dovesse sposare un'altra, lei diventerà, morirà e diventerà schiatrale, verrà un attacco di cuore, in pratica un cocolone pazzesco e diventerà schiuma di mare. La cosa però macabra è che la Sirenetta con le gambe a ogni passo sarà come essere trafitta da cento coltellate. Anderson, dovunque tu sia, tu avevi dei problemi. E la cosa bella è che non le ruba la voce con un incantesimo, no, le taglia la lingua. E lo ribadisco, quell'uomo doveva essere rinchiuso da qualche parte. Comunque il principe poi non la riconosce, perché lei comunque l'aveva salvato, questo è fedele, l'aveva salvato dalla tempesta, tutto quanto. Non la riconosce tutto perché lui si ricordava solo la voce. Poi però si incontra un'altra che si era sovrapposta, diciamo, alla Sirenetta nel suo salvataggio, quindi decide di sposare a lei e le sorelle vanno dalla strega del mare e fanno un ulteriore patto e parattano i loro capelli con un pugnale magico con cui la Sirenetta dovrà uccidere il principe e bagnarsi le gambe con il sangue del principe per tornare a essere una sirena. Ditemi che l'hanno rinchiuso da qualche parte quell'uomo! Comunque la Sirenetta non ce la fa perché è innamorata e quindi decide di schioppare e diventare schiuma di mare. Però vedendo che è stata buona a non uccidere il principe, la Sirenetta diventa una specie di entità astratta, una specie di fantasma che arriverà in paradiso compiendo 300 anni di buone azioni. E qui, cito il grande Capitano Barbascura, 300 anni di buone azioni ti vanno praticamente entrare in paradiso così sulla fiducia, roba che pure Gesù ti dice, sono il tuo fan, sediti al mio posto perché hai vinto tutto. Quindi appunto di conseguenza è così, è così in pratica, è così. Per ogni bambino buono la sua pena sarebbe stata accorciata di un anno, mentre per ogni bambino cattivo lei sarebbe scoppiata a piangere e ogni lacrima sarebbe stato un anno in più aggiunto alla condanna. E qui mi viene da dire forse è meglio il cartone di cui ci ancingiamo a parlare. Appunto la Sirenetta è un grande classico, vediamo appunto prima la nave con il principe Eric che si svolazza i capelli, che dovrebbe avere 18 anni, invece gli dimostra 45. in cui c'è questo maninario in cui gli parla del popolo del mare, di Tritone, perché è una buona giornata, minchia, nuvoloni a destra, onde altissime, penso si era incazzato Tritone. Comunque, attraverso questo pesce che ricade in mare sollevato perché non diventerà un cazzo di branzino, scopriamo la città, Pondelmare, dove governa Tritone. Tritone che ha questo tridente, diciamo, magico, questo tridente potentissimo, che lui usa per accendere i lampadari a destra e a manca e per soggiogare la gente ad andare allo spettacolo canoro delle sue figlie, come che si dice, con, diciamo, esibito, creato da Sebastian, che è il compositore di corte, un granchio, un granchio, va bene, granchio, compositore di corte, mi sta bene. Poi, Sebastian, come mi viene in mente, appunto, Sebastian è un nome un po' da musicista, diciamocela pure tutta. Questo spettacolo consiste, in pratica, nelle sei figlie, quindi Tritone ci ha dato anche giù pesante con la defunta moglie, che, in pratica, cantano i loro nomi. Il concerto è questo. Invece di una bella canzone, di un bel coretto, una bella canzone alternativa, ma, no, le figlie passano il concerto a cantare i nomi che il padre gli ha dato. E già partiamo male, e già partiamo male. Va bene, comunque, sono gusti, noi dobbiamo compiacere il re, perché sono quello con quel tre dente, ci brucia tutti quanti la progenie. E scopriamo, appunto, che la più piccolina, Ariel, che doveva fare l'esibizione di punta, non c'è. Perché? Perché è andata a caccia di reperti umani. Lei ha questo hobby, con Flounder, che è il pesce giallo più fastidioso. Ma, dopo Tamburino, anche quello dovrebbe essere fatto a modi sushi, perché veramente è fastidioso. Non lo sopporto, non lo sopporto neanche lui, ma è un danno su pinna, porca di quella puttana. Infatti, arrivano a questo relitto, trovano questa forchetta, che lei considera un grandissimo motor. Dimmi, se non sto sognando, una forchetta, è una carabella, lei non lo sa, perché, infatti, mi domando, come cazzo mangiano? Le mangiano con le mani. Che schifo! Se non conoscono le posate nel mondo del mare, come cazzo mangiano? Io me lo sono domandato spesso questa cosa. Cioè, se Ariel è rimasta così stupita nel vedere una forchetta, come cazzo mangiano questi? Mangeranno con le mani? Che schifo! A me che sushi si può mangiare tranquillamente con le mani, ma che schifo! Che merda! Cioè, va bene che ci sono alcuni alimenti che sono anche piacevoli da mangiare con le mani, ma comunque, che lorderia! A me che senti in acqua, quindi, vi lavate le mani facili. Poi mi trovo appunto anche una pipa e deciso di andare da scattol. Quando alle spalle di Flounder arriva lo squalo, io lo sopronomeno, lo chiamerò Peppiniello, perché è tenero, perché diciamocena tutta ragazzi, almeno da cresciuti abbiamo fatto il tifo per quel cazzo di squalo. Che si mangiasse quel pesce e questa rincoglionita che se ne va in giro per relitte a prendersi forchette. Almeno trovasse un bel tesoro, dobloni, migliori, vabbè che non se ne fanno un cazzo, ma avrebbe più senso a cercare forchette e cose varie. Comunque, purtroppo, Paolo perde inesorabilmente contro questi due mentecatti che arrivano da Scuttles, un altro essere che dovrebbe essere fatto in salmina, di un fastidioso che dice a Dario che la forchetta è un cazzo di ariccia spiccia e voi ditemelo, siate sinceri nei commenti, almeno da bambine una di noi ha provato a pettinarsi i capelli con una cazzo di forchetta venendo poi giustamente paccate sul culo dalle nostre madri perché poi quella forchetta o era da mettere nell'acido muriatico, dipende poi dai capelli, oppure nel disinfettante perché non è veramente tanto igienico. O ditemi che nessuno ha provato a suonare una cazzo di pipa dei nostri nonni il suffio bla bla che veramente no, io guardavo quelle cose da adulto e dicevo ma vi prego ma che qualcuno lo abbatta quel capello e le riempie già questa qua è una cretina poi questo le riempie la testa di stronzate e quindi giustamente si capisce anche perché questa a un certo punto è venuta su così. Con la parola musica lei si rende conto che ha perso il concerto corre dal paparino e qui conosciamo la vera la vera vincitrice morale di questa storia ovvero Ursula e io ragazzi purtroppo ho una paura a fare tutto ancora per il live action perché stanno per fare il live action di questa cosa qua a me che non sembra che già hanno messo i protagonisti di colore va benissimo non è quello il problema però se mi fanno io spero che mi facciano appunto qualcosa di nuovo che non mi faccia incazzare perché sennò veramente storperò distruggerò anche quel live action che poi non hanno basta con sti cazzo di live action non hanno un fottuto senso di esistere a me che siamo noi nostalgici a dare il potere a questi stronzi comunque vediamo una Ursula che dice di tenere d'occhio Ariel perché lei potrebbe essere la chiave per la rovina di torno e c'ha ragione c'ha ragione perché questa è una mina vagante è un cazzo di flagello su coda padre comunque la rimprovera perché è stata in superficie ma stai scherzando in superficie non ti lo puoi vuoi che ti veda attaccata la mia bambina attaccata all'amo di qualche divoratore di pesci e lei dice la frase più epica di quasi tu qualcuna delle frasi epiche di questo film non sono più una bambina io ho già 16 anni va bene a 16 anni non sei più neanche una bambina ma sei anche ancora minorenne apriamo un attimo il codice penale e possiamo constatare che non puoi fare quel cazzo che ti pare non so come funzioni la legge nel mondo nel mondo del mondo marino ma penso che anche lei ci siano un po' di riserve su quello che puoi e non puoi fare a 16 anni e Tritone appunto la rimprovera se vai ancora in superficie ti faccio un culo grosso così le scappa in lacrime perché lei vorrebbe vivere sulla terra vorrebbe essere un essere umano ma che cazzo sei un pesce perché un pesce dovrebbe voler essere un essere umano e cosa fa per ovviare al problema il caro padre invece di rinchiuderla a chiave per una settimana come si meriterebbe dio che stronza che sono scusate a doppia mandato della sua stanza una settimana senza cibo né acqua così le passa la voglia di rompere i coglioni con sta cazzo di superficie o è la volta buona che appena la liberi scappa subito affida a Sebastian il compositore di corte invece di affibiare una guardia del corpo o magari anche un bel manzetto di cui potesse magari anche innamorarsi che la teneva stretta lì nel mondo dell'acqua non so più parlare la affida al grancho la composizione di corte che la segue verso il suono a scondiglio dove poi all'assimiliente poi è un tripudio di canzoni una dietro l'altra c'è questa appunto canzone in cui lei appunto dice anche la seconda frase epica del film mentre canta scommetto che sulla terra le figlie non le sgridano mai credici figlia bella fanno un culo grasso così i padri della terra ma no il mio no grazie a Dio però sì ha voglia che le sgridano i padri terrestri alle figlie te lo possiamo confermare penso in 250.000 scusate se ho stonato perché mi fa anche mare la gola stasera che cazzo dici ma sei scemo non sei un cazzo di niente non parlare stai zitta che fai più bella figura Sebastian cerca di farla ragionare ma arriva appunto la nave epica del principe Eric in cui appunto lei decide subito di andare a vedere incuriosita si arrampica sulla nave devo ancora veramente capire come cazzo ha fatto e vede appunto Eric che si coccola Max che intanto è una macca andata lì a dare una bella leccata perché a quanto pare Max aveva capito c'è pesce c'è buono cibo si mangia io ho sempre pensato a questo poi da adulta e lei guarda appunto lui che si coccola il canno e devo mettere che tutti ci sciogliamo quando vediamo un uomo che coccola il suo cucciolo ma non ci innamoriamo in tempo zero lei proprio in quel momento in cui lo guarda lei si innamora innamora il vero amore amore vero proprio da voglio partorire i tuoi figli non so come li possiamo concepire ma li voglio partorire cioè ma non ci ha neanche parlato magari sì è lì che si coccola il cane ma magari poi è anche un grandissimo pezzo di merda è un cazzo di serial killer che fa pezzi delle sue vittime e poi nasconde i cadaveri in uno dei sotterraieri del suo castello ma veramente ma che io veramente riguardando il collega dell'adulto dico ma che cazzo di messaggio volevano far passare questi sono stati il capostipite di storie come after e 50 sfumature ragazzi pensateci è dalla Disney che è partito tutto è dalla Disney che sono nati tutti quei messaggi sbagliati in quei cazzo di libri e di film ve lo dico io porca puttana comunque su questa nave stanno festeggiando il suo diciottesimo compianno anche se ve l'ho detto quell'uomo lì è quello a 45 anni non ne ha 18 perché se veramente così ne ha 18 io non oso pensare come sarà quando avrà davvero 45 anni il suo diciamo valletto il suo braccio destro Grizzly Grimsly come cazzo si chiama vabbè il maggiotomo gli regala questa statua imponente vabbè megalomania 2.0 con tutte le cose che gli potevi regalare e fanno appunto un piccolo ragionamento sul fatto che lui non si è ancora sposato che giustamente un principe deve sposarsi e metterà il mondo i redi e anche qui e anche qui porca puttana sei per sessismo però diciamo che lui è anche più più diciamo sensato degli altri principi rispetto a quello di Cenerentro perché lui appunto dice che la ragazza giusta viene da qualche parte ma non l'ho ancora trovata che quando la troverò mi colperà come un fulmine lì tac la tempesta porta a scubo gli mortacci tua appunto la tempesta fa un casino un fulmine brucia una delle vele tutti scappano però Max è rimasto sulla nave e la Disney non può permettersi di far morire un cane in un suo cartone soprattutto non un cartone così e lui il principe Eric con sprezzo del pericolo sale sulla nave va a salvare il cane ma si incastra il piede sulle assi del pavimento esplode perché poi io devo capire che cazzo si faceva della dinamite su una ah no erano i fuochi artificiali scusate ecco no ecco adesso mi è venuto perché cazzo ha scritto TNT e TNT di solito è per la dinamite quindi questi stavano sparando dinamite nel cielo altri quei fuochi artificiali non ho capito mai bene quella roba lì non è che ci ho mai capito tanto proprio sfruttavano l'ingenuità di noi bambini dei bambini anche comunque sia la nave esplode lui però miracolosamente si salva perché appunto casca in acqua Ariel lo salva e lo porta sulla spiaggia dove appunto Scatog si improvvisa perché è arrivato anche lui si improvvisa medico ascoltandogli il cuore dalla pianta del piede e io ribadisco Fatin Salmin quel cazzo di gabbiano che mette in testa quella lì di idee già strane che già è strana lei di per sé e lei però lo vede respirare e gli canta questa canzone che lei farà parte del suo mondo che starà accanto a lui non lo conosci porca di quella puttana non ci hai neanche parlato com'è possibile una cosa del genere io ho capito che eravamo bambini ma io spero che la generazione di adesso sia molto più sveglia e non tratta insegnamento che lo guardino semplicemente perché noi la mia generazione dice ci credeva ci credeva a queste stronzate ecco perché poi siamo cresciute ecco perché adesso sono qui a fare i video su youtube per colpa della sirenetta porca puttana ci sono venute fuori così porco giuda comunque arriva max lei scappa via per non farsi vedere perché giustamente sarebbe abbastanza inquietante vedere il tuo principe che sta avendo palpeggiato da una cazzo di donna pesce e ursula che ha visto tutto tramite queste sue alghe merdine che sono lozzo ma come fossimo in politica le fanno vedere quello che succede in superficie e lei coglie l'occasione quella deficiente si è innamorata di nuovo ma innamorata che cosa innamorata che cosa e lei decide di sfruttare appunto la cosa a suo vantaggio Ariel appunto è innamoratissima con le sorelle che la guardano stralunata il padre appunto che dice ma cosa le prende e la sorella dice un'altra delle frasi epiche questa volta è una cosa seria e qui erige un unico grande grido come questa volta quante cazzo di volte è successo che questa si innamora in tempo zero papà papà c'è da fare c'è da prendere dei provvedimenti qui perché c'è qualcosa che non va in tua figlia è peggio di quello di non so quanti di voi seguono The Big Bang Theory la puntata in cui c'è Billy Bob Thornton che fa il medico con cui Penny ha flertato per venderti dei palmaci che ogni volta che una donna lo carezzava diceva un Mississippi due Mississippi tre Mississippi e si innamorava in tempo zero della persona che l'aveva toccato per dei Mississippi ecco da che hanno preso ispirazione hanno preso ispirazione da Ariel della sirenetta per quell'uomo lì poi c'è la canzone più famosa con Sebastian che cerca di far capire che cazzo tu sei un pesce non puoi stare con un essere umano ma ti rendi conto come cazzo pensi di poterti anche solo accoppiare com'è l'anatomia dei dugonghi delle sirene non è che è molto non credo che a dare l'abbiano spiegato bene forse il papà si è dimenticato di farle il discorsetto sul sesso visto che siamo comunque sui 16 anni forse avrebbe dovuto fargliene fargli capire la meccanica è un po' complicata per quello che ne so io sarebbe abbastanza complicato comunque sia c'è la canzone più famosa del film quella che poi ha vinto anche l'Oscar se non sbaglio come miglior canzone che è in fondo al mar va bene pesci che cantano che suonano con aria che a un certo punto se ne va addirittura a metà canzone se ne va fuori dai coglioni con Flander che la porta al loro rifugio segreto con tutte le cose degli umani che lei ha raccattato mi sono dimenticata prima di dirlo c'era questo in pratica nel rifugio dove lei ha cantato la cosa dei padri che non sgridano mai le figlie qui credici a Flander che è un cazzo di pesce ha trasportato una statua di chissà quante tonnellate dentro una caverna dentro un'entrata che sarà stata grossa così una statua di chissà quante tonnellate un cazzo di pesce va bene che da bambini eravamo deficienti ma non fino a questo punto santi Dio del cielo però appunto il tritone convoca Sebastian e lui è terrorizzato perché teme che abbia scoperto qualcosa infatti si fa sgamare in pratica brucia in maniera equivoca lui non voleva fare la spia perché lui dice di Ariel si è innamorata e lui subito nel panico io gli ho detto di lasciare stare gli umani e lui che cazzo c'entrano gli umani e c'è ma se non capisci ne aveva fatto una cagata e tritone si fa portare appunto al nascondiglio segreto della figlia dove appunto lui cerca di farle capire che quello che ha fatto è sbagliato perché diciamo che tritone ha un'avversione per gli esseri umani e credo anche giustificata perché poi hanno fatto anche altri due film ma non mi sono azzardata mai a guardarli per me non esistono non so perché giustamente lui è un pesce e loro sono umani l'umano mangia il pesce diciamo che anche l'ostilità è già così di per sé giustificata appunto le fa ma Ariel non devi saperlo che i contatti tra il nostro mondo e con gli umani sono severamente proibiti cosa si è andata in testa di salvare quell'umano ma sarebbe morto è giustamente un umano in meno di cui preoccuparsi e lei dice un'altra frase epica di questo film ma non lo conosci neanche bella mia non lo conosci neanche tu porca puttana non ci hai parlato tu ti sei basata soltanto sulle coccole che ha fatto un cane e su lui che suonava il flauto e perché è bello è bello e qui e qui sempre il richiamo a quei cazzo di libri maledetti tormenteranno la mia vita per sempre comunque poi dice l'altra frase epica dice che sono tutti smidollati tutti armati di fiocce papà ma io lo amo ma che cosa cazzo ami e a parte che hai 16 anni e va bene non voglio sottilizzare sul fatto che adesso sto parlando di adesso anche una 16 anni può sapere anzi a 16 anni cominci a scoprire l'amore ed è una cosa bella ma perlomeno noi a 16 anni scoprivamo l'amore con qualcuno dopo averci parlato dopo averlo conosciuto dopo aver capito che era una persona degna del nostro amore questa dice che lo ama solo perché è bello perché è un principe e perché l'ha visto coccolare un cane ma pensavano davvero che eravamo dei rincoglioniti quelli della disney io infatti mi domando veramente cosa gli passava per la testa quando scrivevano queste cose ho capito che non è che puoi fare un film di due ore su loro che si conoscono e si innamorano che devi essere fedele alla fiaba che già di per sé era una stronzata apocalittica però quella era una fiaba le fiabe si sa che anche questo tu dice un cartone ma questo veniva visto dai bambini e dalle bambine che crescevano con questi messaggi no non ci siamo per niente cioè io mi rivolgo anche alle nuove generazioni guardatelo semplicemente come un cartone ma genitori genitori vuoi che io e i miei figli le mie figlie le mie figlie farò vedere i cartoni disney ma poi quando saranno dopo un anno io gli spiegherò guarda che però amore non funziona così guardati il cartone bello bellino pesci che suonano gatti che cantano va benissimo ma nella vita non va così nella vita non va così io l'ho capito da sola l'ho capito crescendo e io farò la stessa cosa con i miei figli comunque il padre preso da che poi io voglio anche dire una cosa ad Ari io per carità poi non dico che io sono per le pari opportunità per quanto mi riguarda non è tanto il fattore umano sirena per quanto i problemi anatomici siano evidenti per quanto mi riguarda tu ti puoi sposare anche con un granchio con una con una vongola con una cozza con con un con un con un con un alga marina ti puoi sposare chi cazzo puoi uscire con chi cazzo vuoi ma almeno almeno parlaci parlaci prendetevi un aperitivo fatevi uno snack fatevi un picnic conoscetevi almeno porca di quella grandissima potenza sono sicura che a quel punto anche nella diversità tuo padre capirebbe ma ma almeno escici una volta almeno parlati cerca di capire un momento che cazzo di persona è questa questo è probabilmente magari anche un cazzo di fottuto serial killer e lei lo ama perché è bello cioè ma ve l'ho detto il capo stipide di after di 50 sfumature abbiamo scoperto che è la sirenetta ragazzi vedete quante cose vengono fuori facendo questi video e rivedendo questi classici non so però se è un bene comunque il padre pensando cercando di porre fine alla follia perché stiamo parlando di follia della figlia distrugge tutto il suo rifugio lei piange in lacrime e in quel momento appunto mentre lei manda via sia Flander che Sebastian con cui è arrabbiata perché pensa che abbia fatto la spia ma non è vero cioè poveraccio lui era quel povero granchio viveva una una situazione di stress emotivo quando lui doveva soltanto comporre musica ma stiamo scherzando e gli vuoi anche fare una colpa comunque arrivano i due sgherri della strega che le dicono che Ursula la può aiutare che ha dei poteri enormi tutto quanto e lei li manda via perché insomma la strega della mare non è che abbia proprio una bella reputazione li manda via loro le scagliano addosso le passano con una codata il viso del principe di Eric della statua e lei gli dice di aspettare e va con questi due sgherri da Ursula Sebastian cerca di fermarla e lei gli dice perché non mettere la mia padre la cosa che sai fare meglio e nel momento in cui Sebastian doveva fare l'unica cosa giusta ovvero correre nella tritone e dirle guarda che tua figlia sta andando alla strega del mare per fare chissà che cosa forse è meglio che viene a risolvere le cose col tuo tridente super magico con cui accendi i lampadari forse è il caso di andare a friggere la strega e magari dare una frittatina anche a tua figlia visto che è così deficiente di andare da lei e appunto Ariel arriva alla casa diciamo alla tana della strega del mare dove ci sono queste alghe merdine che sono praticamente tutti quelli che non hanno pagato il debito che avevano con Ursula ma adesso ci arriviamo Ursula è diciamo la sincerità fatta a piovra chiamiamola così perché poi Ursula è anche ispirata alla drag queen questo l'ho scoperto appunto grazie al video di Barbascura a Ursula è onesta è onestissima nella sua manipolazione nel suo intortamento perché le dice chiaramente fanno un patto con carta canta io ti faccio una pozione che ti trasformerai in un'umana per tre giorni e hai tre giorni per far innamorare il principe di te tre giorni veramente manco tentationale neanche qua tre giorni e per far diciamo far sì che la cosa sia diciamo effettiva deve darti il bacio del vero amore quindi non vale una slinguazzata così al chiaro di luna no deve essere proprio il bacio del vero amore in tre giorni va bene ormai se il principe la bacerà col bacio del vero amore entro tre giorni lei resterà un'umana per sempre se invece non lo fa tornerà a essere una sirena e le apparterrà se non non rispetti l'accordo se poi tenti anche di ovviare all'accordo nel senso che provi a scappare diventerai un'alga merdina cioè Ursula è chiara è proprio onesta le fa anche un contratto con su scritto tutto dov'è che lei che Ariel deve firmare e insomma guarda che Ariel hai letto cioè guarda che se non paghi diventi l'alghina merdina sì 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 firmo subito dimmi solo dove devo firmare ma hai capito bene qual è la situazione cioè se non ti fai baciare dal principe entro tre giorni questa qui ti trasforma in un'alga merdina sì 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 dove devo firmare dove devo firmare subito firmo minchia questa sarebbe la pensione di tutti i venditori porta a porta comunque c'è questo incantesimo questa cosa che però l'incantesimo ha un prezzo ovvero la sua voce e qui si dimostra già quanto sia subito da questa stronza perché lei ha visto tutto quindi sa che il principe si ricorda della voce più che altro della ragazza che l'ha salvato più che del viso ma senza voce come faccio vabbè ma hai la bellezza il bel faccino e qui il sessismo che ritorna c'è praticamente per la Disney una donna può anche non parlare che tanto all'uomo finché ha dei bei fianchi e un bel faccino va bene uguale perché non ci accorgevamo di queste cose quando vedevamo i film perché sì perché eravamo bambini giusto sto male malissimo comunque c'è questo incante questa canzone in cui appunto ha il film al contratto e la strega del mare con questo incantesimo le porta via la voce la trasforma in umana con una scena traumatizzante per il resto dei nostri giorni sott'acqua cioè ma mandarla fuori cioè me la trasformi in umana sott'acqua che rischia di annegare rischia di morire perché giustamente non può più respirare sott'acqua per fortuna c'erano lì Flander e Sebastian che la portano su come cazzo non ho fatto ancora devo capirlo mentre ride come una fosse nata e quando una persona ride in quel modo quando hai fatto un patto con lei vuol dire che te l'ha messo nel di dietro comunque l'aria arriva sulla spiaggia arriva anche scattos che dovete in salmin che non si accorge che aria ha le gambe finché se basta non glielo fa nuotare cercano stanno cercando il principe che tanto è lì che si tormenta per la canzone la voce che ha sentito quando è stato salvato Max fiuta un odore familiare e lui la riconosce infatti Max è il più intelligente perché la riconosce proprio dall'odore sa che è lei perché se la ricorda e appunto Eric la trova però essendo che lei non può parlare non riconosce la ragazza che poi cazzo l'ha vista un po' cioè se hai visto un frame in cui lui ha visto il viso cioè ma veramente se è così deficiente veramente non ti accorgi che è lei solo perché non parla magari ha perso magari ha solo un po' di trachite poi le passa vabbè vabbè comunque lei è vestita di stracci lui dice lui diciamo che dimostra di essere una brava persona anche se questa potrebbe essere tranquillamente una che vuole farlo fuori magari mandata da qualche paese straniero per ucciderlo perché vuole fare un colpo di stato se la porta se la porta a casa va bene va bene d'accordo tanto ormai perché ci stupiamo più comunque la ragazza appunto viene accolta a palazzo dove le fanno il bagno pensano che sia una principessa vittima di un naufragio e tutto e Sebastian che era con lei si ritrova in questa cucina degli orrori dove praticamente stanno cucinando pesce e quindi vede anche dei granchi quindi è possibile che sia anche qualche suo parente che è finita nella rete di qualche di qualche pescatore e qui c'è l'altra un'altra delle frasi epiche di questo film lei il maggiordomo cercando di far capire a Eric che le brave persone le brave ragazze non vanno in giro a salvare la gente e poi si risolvono nel nulla e Eric dice la frase un'altra delle frasi epiche di questo film non me la sono immaginata devo assolutamente ritrovarla e poi la sposerò allora sei deficiente e qui il sessismo che ritorna caro Eric della mefava che ti dice che lei ti voglia sposare cioè che tu decidi che quando l'avrai trovata boom ci sposiamo questa ti può anche guardare in effetti ma che cazzo sei ehi ma mi hai salvato la vita quindi ci dobbiamo sposare ma che cazzo ti vuole ma scusami ma perché cazzo ti dobbiamo sposare ma stiamo scherzando ma vero dillo in modo diverso non me la so immaginata te la devo ritrovare poi magari inizierò a conoscerla e poi forse ma no proprio deciso la e poi la sposerò senza tenere conto che magari magari poi è anche già sposata magari poi è anche già sposata solo che era lì che cantava perché una brava persona magari si è sposata nel frattempo no veramente ogni volta che ho detto quella frase adesso mi viene solo da ridere perché veramente un'altra volta il sessismo della Disney si fa sentire comunque Ariel arriva alla cena tutta bellissima tutta tutta sgocciolante tutta eccitata perché con il suo principe con il suo grande amore che mancano parlato vabbè che lei adesso diciamo che le si può spezzare un'arancia che non c'è la voce e appena si siede a tavola trova la forchetta e comincia a pettinarsi i capelli poi la rimette pure sul tavolo cioè io spero dopo che con quella forchetta io spero che la cameriera poi prenda quella forchetta e la butti via subito nel disinfettante nell'acido muratico quello che volete e poi c'è una delle scene più inquietanti ma che quanto pare forse la Disney pensava che noi bambini siamo deficienti quindi ci saremmo divertiti questo cuoco che sembra uscito direttamente da Shining secondo me in quella cucina c'era la stessa presenza che c'era nell'hotel di Shining che stacca la testa ai pesci gli strappa le spine in un modo con uno sguardo da Jack lo squartatore levati strangolatore di posto levati proprio una roba proprio neanche Michael Myers secondo me era così sadico e con Sebastian appunto che vede i suoi amici tagliuzzati fatti a pezzi e poi con questo scontro epico in cui il cuoco trova Sebastian pensando che sia fuggito ma Sebastian non ne manda a dire è veramente una cosa un essere umano che si fa cattafottere così da un gran che distrugge praticamente la cucina e si salvano solo i tre piatti che probabilmente erano già stati preparati per i tre ospiti per i tre cristiani che sono a tavola e appunto Sebastian si è nascosto sotto uno di questi vassoi e Ariel lo salva in cornel mentre il maggior domo sta per infilzarlo e non si trova più niente nel piatto poi Eric propone Ariel di fare un giro turistico del regno e vediamo loro che ballano loro che vanno a fare shopping e poi loro che vanno in carrozza con lui che decide di darle le briglie e lei manco Dominic Toretto quando sale sulla macchina gli fa andare a tutta manetta saltano anche un burrone grazie a Dio non sono morti e poi c'è l'altra epica canzone Baccia in cui c'è Sebastian che con le sue doti da compositore e con le direttore d'orchestra della Mefava crea quest'atmosfera bellissima in cui stanno per slinguazzare ma arrivano i due sgherri della strega del mare che capisce che la ragazzina non è mica deficiente questa qui tra un po' si fa veramente slinguazzare allora prende in mano la situazione e si trasforma in essere umano tramite i suoi poteri e mentre appunto Eric sotto consiglio del maggiordomo sta andando da Ariel per chiedere di sposarla senza senza immagino sempre così e parliamo un attimo conoscere poi magari tra troppo di tempo no subito stava andando proprio in la testa bassa ma vede appunto arrivare Ursula che si è trasformata in questa donna bellissima che è Vanessa con la conchiglia che si illumina e che canta con la voce di Ariel che ipnotizza il principe la mattina dopo Scatel arriva tutto contento perché il principe ha annunciato le nozze pensando che si debba sposare con lei invece Ariel arriva e trova appunto il principe con quest'altra svinfera che tutti scambiano per quella che lei ha che lui quella che l'ha salvato e lui che allora chiaramente allora questo uomo qua Eric adesso sta tutto il tempo così in stato catatonico cioè possibile che nessuno si sia accorto che quell'uomo sta male che fosse non dico non dico da capire che era sotto ipnosi ma che chiaramente avesse dei problemi c'è un uomo che sta tutto il tempo così io mi faccio qualche domanda però vabbè poi c'è anche da dire che questo ho organizzato le nozze così senza andare neanche dall'altra stronza a dirle guarda che facendo una passeggiata ho incontrato un altro e ho deciso di sposarmi tutto a posto tanto neanche io e te si conoscevamo alla fine non abbiamo mai neanche parlato quello quindi mi sto sentendo male mi sto sentendo sempre più male a parlare di sto film con lei appunto che è soddisfatta perché la vede scappare in lacrime con questo che sta così ma cazzo ma qualcuno gli tiri uno schiafo qualcuno lo faccia ma nessuno veramente si è reso conto che quest'uomo sta male proprio è così una statua di sale non sbatte neanche le palpe peggio di Piton quando cercava di salvare Harry nella pietra filosofale comunque scattola appunto volando vede la strega che si prepara al matrimonio che si riflette allo specchio e si vede la sua vera immagine corre d'aria ad avvertirla che riprende in mano la situazione e si butta in acqua per raggiungere la nave a nuoto aiutata da Flander con che trasporta lei e questo barile stra pesante vabbè stiamo parlando di un pesce che alla fine è riuscito a trasportare una statua di 200 tonnellate dentro una cazzo di caverna quindi può fare tutto questo Flanders è l'erede probabilmente di Capitan America insomma possiamo anche dire questo e appunto mentre si celebra il matrimonio Scuttles arriva con un esercito di un battaglione anzi di uccelli e creature del mare varie che cercano di ritardare le nozze e tutto prendendosela con la strega del mare che è ancora le sembianze di Oressa e mentre Scuttles cerca di strapparle la collana che contiene la voce di Ariel Max a cui lei aveva dato anche un calcio prima brutta stronza era da un bel mozzico sul culo la collana parte si rompe Ariel recupera la sua voce Eric viene sciolto l'incantesimo che lo teneva in stato catatonico c'era un casino della madonna su quella cazzognave e lui stava così e nessuno a domandarsi perché questo non reagisce con animali e bestie varie che ci vogliono mangiare va bene ok nessuno che si è fatto domande comunque nel momento in cui stanno per baciarsi il sole tramonta e quindi Ursula si trasforma in un modo traumatizzante per ogni bambino che abbia visto quella scena Ariel si trasforma in sirena lei la porta via e mentre se ne stanno andando arriva Tritone che era stato avvertito in precedenza da Sebastian che Tritone qua però si dimostra padre dell'anno quando Ursula gli fa capire che il contratto è completamente valido che Ariel l'ha firmato di sua spontanea volontà e vede che la figlia si sta trasformando in un'arga merdina Ursula gli propone sottinteso puoi prendere il suo posto quindi lui senza esitazione sostituisce con il tridente la sua firma con quella di la firma di Ariel con la sua e la magia si sposta appunto da Ariel e la Tritone che diventa un'arga merdina e la corona viene presa da Ursula e dal e anche prende anche il tridente tutto questo soltanto perché questa deficiente si è innamorata di uno senza averci mai parlato povero Tritone vabbè sei un po' un desputo ma ti faccio un applauso in quel momento arriva appunto Eric con la fiocina che cerca di non la prendere neanche in testa cioè cazzo perché qui qui al braccio mira alla testa no nessuno mira mai alla testa mentre sta appunto cercando di colpirlo per l'ennesima volta col col tridente Ursula Eric Ariel giustamente interviene e il raggio diciamo il raggio magico chiamiamolo così prende i due sgherri lei si dispera perché erano i suoi piccolini e devo ammettere che per i miei cuccioli se me li toccassero reagirei anche io così si trasforma in questa bestiaccia enorme in questa creatura veramente demoniaca che col tridente illuminato fa un sacco di casino tira su relitti dal fondo del mare su uno di questi relitti sale anche Eric che riesce a manovrarlo che ha uno spuntone che viene fuori lo manovra a tal punto che il relitto anzi la diciamo la lancia chiamiamola così del relitto trafigge Ursula uccidendola e ponendo fine a tutto nell'arco di 10 secondi è stata Ursula a ingrandirsi è stata Ursula a tirare su le navi le navi relitto ed è stata Ursula a farsi trafiggere in pratica questa donna si è ammazzata da sola brava ci hai fatto un cazzo di favore tutti infatti con la sua morte tutte le larghe merdine tornano normali compreso Tritone che si rende conto che Arela è davvero davvero innamorata ma ma come ma hanno passato insieme tre giorni capisco tre settimane ma tre giorni tre giorni ma almeno parlale un momento prima vai a dire guarda che l'amore non nasce in tre giorni tesoro mio facciamo così io ti trasformo in un'umana dunque lo faccio facciamo passare un po' di tempo vi conoscete posti tu sei davvero convinta che questo te lo vuoi sposare io ti mantengo le gambe se no troviamo il modo di farti tornare sirenetta invece no lui decide appunto vede che la figlia è innamoratissima nel guardarlo che si strugge guardarla struggersi mentre lui appunto è ancora lì mezzo morto dallo scontro con Ursula sulla spiaggia le dà le gambe e un vestito giustamente non può lasciarla nuda è comunque la sua bambina quindi giustamente le dà anche un bel vestito argentato e i due si sposano alla velocità del sole e anzi alla velocità della luce senza mai neanche aver parlato senza neanche conoscersi tanti matrimoni sono iniziati così e sappiamo come sono andati a finire io infatti pagherei oro incenso e mirra perché questi tornino dalla luna di miele e capiscono che non si possono sopportare con Ariel che prega il padre ti prego ridammi la coda di sirena perché questo è uno stronzo maniaco che mi fa fare sesso in maniera sadomaso che mi picchia sul culo per eccitarsi ti prego papino ridammi la coda della sirena veramente avrei pagato oro incenso e mirra per vedere quella roba lì comunque vabbè ragazzi che altro dirvi questo è stato diciamo che a livello di innamoramento credo che Ariel batta tutte le princi forse forse anche Aurora se la se la gioca bene il prossimo sondaggio infatti sarà difficile quindi mi raccomando seguitemi su vista perché il prossimo sondaggio sarà veramente difficile comunque ragazzi come vi ho detto lo ribadisco questi video non hanno l'obiettivo di sputare merda come faccio con altre cose sui cartoni della Disney io li amo diciamo che questo è un modo anche per intrattenere quindi sono un video di intrattenimento che spero vi divertano e sono praticamente l'ottica adulta dei classici della Disney perché penso che sia anche importante insomma analizzare questi classici che hanno segnato la nostra infanzia con l'occhio adulto perché comunque le mamme le fanno ancora vedere i mammini però come dico la generazione di oggi è molto più intelligente è molto più sveglia di quanto eravamo noi e anche i genitori sono molto più svegli e spiegano spero meglio le cose ai figli quindi a me comunque le hanno spiegate benissimo perché se no non sarei qua quindi ragazzi io spero davvero solo che questo video vi abbia divertito e comunque ragazzi sono tutte cose vere poi alla fine cioè io metto in luce l'ottica adulta di questi cartoni però questo non vuol dire non vuol dire assolutamente che non li amo anzi proprio perché li amo che sono qui perché mi diverto appunto a parlare in questo modo è una sorta di odio amore però non vuol dire che appunto non mi piacciano e che comunque non li abbia sempre sempre nel cuore io però vi invito lo stesso a leggervi il giorno dopo il lieto fine di Alice Chimera perché se veramente anche come me se la pensate come me quel libro vi darà tante di quelle soddisfazioni la recensione la trovate appunto sul canale bene l'appuntamento di questo mese con i classici Disney si conclude qui io spero che vi sia piaciuto un mese prossimo nuovo film nuova recensione infatti come sempre vi ripeto che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale e soprattutto seguirmi su Instagram perché appunto se andate nel link in descrizione e mi seguite nelle stories fra un paio di settimane metterò appunto il sondaggio per scegliere quale sarà il prossimo e vi dico che il prossimo penso che ve lo metterò molto molto difficile sarà veramente una scelta ardua io li recensierò tutti però voi praticamente state recidendo l'ordine in cui li recensierò soltanto quello perché comunque li recensierò tutti i classici Disney soprattutto quelli più divertenti soprattutto i classici più che altro quindi poi anche qualcosina della Pixar così che devo ancora recuperare ma comunque i classici quelli più importanti quelli più famosi li farò tutti però voi state scegliendo l'ordine di registrazione di pubblicazione quindi mi raccomando seguitemi su Instagram poi io li tengo comunque aggiornati sulle attività del canale sulle pubblicazioni sulle live sulle letture quindi mi raccomando link in descrizione ma soprattutto se volete sostenermi iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi assolutamente nessun nuovo video in descrizione troverete anche il link della pagina Facebook che è l'Italia dedicata a The Walking Dead io non so se state vedendo questo video quando abbiamo fatto oppure staremo per fare l'ultima live diciamo programmata che è l'ultima pagella dedicata al terzo e ultimo gruppo di questa prima parte di stagione ovvero i miei editori uniti al gruppo di Maggie perché il gruppo di Maggie come è arrivato se ne è andato quindi era assurdo farci una live a parte quindi abbiamo deciso di unire i due gruppi quindi non so se la live sarà già online oppure se dobbiamo ancora farla perché l'ordine della pubblicazione lo deciderò stasera che è domenica che sto girando quindi di conseguenza comunque vi invito ad andare nel link in descrizione anche perché io e Carol teniamo sempre aggiornati su tutte le live su tutte le pubblicazioni poi se andate di Walking Dead davvero potete trovare di tutto quindi mi raccomando andate nel link in descrizione Carol Italia e soprattutto in descrizione troverete anche il link della pagina Facebook The Walking Dead di Tafamily che insieme a Carol Italia è una delle pagine più informate e appassionate dedicate alla serie qui potete trovare davvero di tutto aree di discussione dedicate anche a Fear The Walking Dead e a War Beyond notizie dal set news foto video meme video ironici chi più ne ha più ne metta potete trovare davvero di tutto di più quindi mi raccomando andate in descrizione se siete avanti di The Walking Dead seguite queste due fantastiche pagine Facebook se questo video vi è piaciuto venite un bel pollice in su e fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate se la pensate come me oppure se pensate che sono troppo dura oppure se vi divertite e basta guardando questi video insomma fatemi sapere voi cosa ne pensate ho visto che il video di accennamento è andato molto bene infatti vi ringrazio vi abbraccio mentalmente fortissimo per il sostegno che mi avete dato in quel video infatti anche per questo che mi sono invogliata a continuare questa tipologia di video quindi ragazzi mi raccomando fatemi sentire il vostro sostegno anche qui con i vostri commenti e tanti bei pollici in su ragazzi io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti no io comunque veramente avrei pagato il recenso in mirra dopo un mese di nonna di miele voglio il divorzio sarebbe non pensate anche voi che sarebbe stato il finale più epico di sempre per un cartone del genere ditemi la verità nei commenti ci avete un po' pensato anche voi poi quando siete cresciute dai e poi ci sono quelle che mentono invece ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti